Balla un denuto, tu un pare, su quando ha s'antica la moda, tu un due sì che sta roda, ti paghe di indignare. A passù deve torrare, assù sono un cadenza, tu hai saughe. A passù deve torrare, assù sono un cadenza, tu hai saughe. A passù deve torrare, assù sono un cadenza, tu hai saughe. A passù deve torrare, assù sono un cadenza, tu hai saughe. A passù deve torrare, assù sono un cadenza, tu hai saughe. A passù deve torrare, assù sono un cadenza, tu hai saughe. A passù deve torrare, assù sono un cadenza, tu hai saughe. A passù deve torrare, assù sono un cadenza. A passù deve torrare, assù sono un cadenza, tu hai saughe. A passù deve torrare, assù sono un cadenza, tu hai saughe. A passù deve torrare, assù sono un cadenza, tu hai saughe. A passù deve torrare, assù sono un cadenza, tu hai saughe. A passù deve torrare, assù sono un cadenza, tu hai saughe. A passù deve torrare, assù sono un cadenza, tu hai saughe. Il Demone d'Argento, edizione 2018. Quindi Peti ripristina quello che è stato fino a qualche anno fa, un premio donato a chi nei vari anni, chi si è distinto e merita, quindi questo oggetto molto prezioso, realizzato dall'orafo Nanni Rocca. Ma noi siamo già pronti per entrare in un altro disegno, questa volta torniamo in Barbagia, in quella che è considerata un po' la capitale del folclore. Ha dato Natalia Grazia De Leda, l'ortovene protegge Nuoro e noi siamo contentissimi di applaudire il gruppo folk che fa capo alla Proloco, Saludos di Nuoro. Eccoli qua, bentrovati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.